Ah, il prato! Guarda quant'erba! Sicuramente qui trovo Annie! Annie l'alpaca! Annie l'alpaca! Ciao, Frank! Hai sbagliato luogo! Tutti sanno che Annie vive in un luogo alto! Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È una nave! Pirati, venite qui! Devo dirvi una cosa importante! Che cosa dirà il capitano Katie alle piratesse? Quindi che cosa dobbiamo fare? Devono risolvere un indovinello per raggiungere il tesoro! Arr, come faranno i pirate ad attraversare e raggiungere il tesoro? Il ponte non c'è più! Katie non vive qui al polo sud? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno!